Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andiamo insieme alla scoperta di un mondo fatto di luccichio, di glamour e di stile. Siamo infatti pronti a presentarvi le novissime paillettes grandi in pvc, dei dettagli che vi permetteranno di brillare come se foste sulle passerelle dell'alta moda. Scopriamo insieme questi piccoli ma super versatili elementi che ci permetteranno di stravolgere ogni creazione. Ed ecco qui le nostre paillettes in tutto il loro splendore. Questa che stiamo vedendo è la versione da 20 mm. Ogni confezione ha il peso di 20 grammi all'incirca e troverete all'incirca 150 pezzi. Come vediamo sono in pvc quindi particolarmente luminose. Pensate all'effetto di luce che doneranno a tutte le vostre creazioni. Ma non finisce qui, sono infatti disponibili anche nella versione più grande. Queste paillettes hanno un diametro di 35 mm e in ogni confezione troverete all'incirca tra i 70 e i 75 pezzi. Ogni bustina anche in questo caso avrà il peso di circa 20 grammi. In entrambe le misure, come vediamo in alto, è posto questo foro molto pratico per permettere il passaggio dell'uncinetto. Come abbiamo visto le colorazioni disponibili sono diverse, quindi potrete divertirvi a fare vari abbinamenti che siano di colori in abbinamento o a contrasto. Pensate che bell'effetto. Quelle cambianti poi vi permetteranno di creare dei giochi di luce davvero unici. Si tratta infatti di un prodotto molto versatile. Potrete utilizzarle per decorare capi d'abbigliamento, accessori, pensate alle paillette applicate ad esempio su dei cuscini per il vostro divano, oppure una bajour o magari un pizzico di glamour alle tende. I vostri ospiti resteranno davvero a bocca aperta. Ma possiamo poi decorare anche le scarpe. Pensate magari a delle décolleté. Arricchite anche con un solo dettaglio acquisteranno un nuovissimo valore. E che dire poi delle borse. Lì davvero potrete sbizzarrirvi. Un tocco di luce potrete donarlo anche a cappellini e sciarpe per portare davvero un tocco di luminosità alle grigie giornate invernali, sia per i grandi che per le più piccine. Ma le paillettes non vengono utilizzate solo nel campo della moda. Queste paillettes le abbiamo viste essere utilizzate nel corso del tempo anche nelle arti visive. Sono infatti numerose le creazioni come ad esempio dei murales, dei dipinti in cui vengono applicate all'interno proprio della pittura questi piccoli punti di luce. Oppure per lo scrapbooking ma anche per decorare i pacchetti. Insomma un prodotto che si presta agli più svarati utilizzi. Adatto davvero a tutte le necessità. Ovviamente anche le passerelle dell'alta moda questa stagione ci presentano molte idee per poter ispirarci nelle nostre creazioni. Pensate ad esempio ai cardigan. Magari un po' Versailles con dei tasconi impreziositi da queste paillettes. Un capo che diventerà davvero di stile ed elegante. Ed è proprio di questa stagione la tendenza di abbinare un maglioncino, ovviamente che sia crochet o ai ferri, a delle gonne che siano midi o lunghe, interamente fatte di paillettes. E voi cosa state aspettando a scegliere la vostra colorazione preferita? Siamo curiosi di vedere tutte le vostre creazioni. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland, TikTok, Pinterest, Instagram e il nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità. Al prossimo Tessiland News!